La tranquillità di una casa sicura. Ferramenta Fantuz vi propone i sistemi più avanzati per rendere sicura la vostra casa. Ferramenta Fantuz, anche servizio di applicazioni chiavi e telecomandi. I sistemi antinfortunistici più evoluti, con la progettazione, realizzazione e posa in opera delle linee Vida. Fantuz, ferramenta e utensileria delle marche più prestigiose. Tutta la migliore antinfortunistica con oltre 60 modelli di calzature, idropulitrici e macchine per la pulizia degli impianti fotovoltaici, con vendita e noleggio. Il servizio domicilio chiavi in mano per la pulizia del vostro impianto fotovoltaico. Ferramenta Fantuz.